Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze e gli aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se volessi saperne di più cosa posso fare per te, consulto in descrizione al sito rinascere.net, mio sito personale, ho riservato diversi pacchetti di consulenza, scegli quello che fa per te. Perché ci sono delle donne o ragazze che su Tinder dalle foto fanno capire che sono fidanzate? Questa, amico mio, credo che sia una strategia o una cosa che tu hai mai compreso. Partiamo dalla fine. Sei sicuro che questa foto sia sua ed è suo fidanzato? Potrebbe essere un suo amico? Potrebbe essere un suo ex? Quindi fai molta attenzione a dare per scontato che una cosa sia esattamente quella che tu credi perché spesso non è così e se parti con un preconcetto poi ti rovini tutto quello che è il percorso. Quindi un gran consiglio che ti posso dare è quello di all'inizio essere una persona che fa la finta tonta. Fingi di non sapere nulla. Abbi sempre coscienza di quello che pensi possa essere e tutelati, sì. Ma non partire con dei preconcetti perché poi se ti scontrerai con la ragazza che ti dice no, non è così, rischi di starci male, di fare delle litigate per nulla, di avere delle incomprensioni con lei che non ti portano da nessuna parte. Quindi all'inizio pensa, bah, potrebbe essere un suo amico. Il secondo motivo del perché secondo me una ragazza mette foto con quello che è attualmente il suo ragazzo, il suo compagno, il suo marito è probabilmente perché è lì o per cercare qualcuno per fare una cosa a tre, l'ho visto fare. Io mi sono scritto anche con ragazze che cercavano una terza persona per qualche giochino sessuale particolare o per testare quanto sia il tuo vero interesse. Anche lì torniamo nel primo punto, ovvero quello del ti metto un piccolo vincolo, un piccolo problema. Vediamo quanta faccia tosta hai, vediamo se mi matchi lo stesso. Perché te lo assicuro, lei sa benissimo che mettere una foto con un altro uomo scoraggia le persone a scriverle, a matcharla. Forse questo lo fa appunto per scremare tutti quelli che se la fanno sotto, che hanno paura. Tu invece andando proprio all'acqua di rosa in tranquillità e matchandola, non ti fai domande e dici ok, tanto se una ragazza ti matcha e ti scrive su Tinder e vuole vederti, indipendentemente dal fatto che sia occupata o no, se tu la interessi e porti avanti una bella conversazione uscite, lei è presa. Lo so che non è bello da dire, ma una ragazza non è impedita dal fare certe cose perché ha un fidanzato. Cioè sì, moralmente, ma se è lì, è lì per un motivo, per tradirlo, per cercare nuove emozioni, per cercare, come ho detto prima, una terza persona per un qualche gioco sessuale col suo partner. Ecco, se è lì e ti matcha, ci deve essere un motivo. Non vederlo come un vincolo o come una cosa che non sta all'incenua in terra, che non si capisce perché. Perché? Cerca di capire se effettivamente lei è single o no. Questo come fai a farlo? Con quelle domande che io ti consiglio sempre per cercare di capire se è single o no. Di solito chi è su Tinder, a meno che appunto torniamo sempre lì, non cerchi qualcosa di particolare, è lì perché è single, per trovare qualcun altro. O banalmente ha finito le foto, non sapeva che altre foto mettere, ma anche questa è una cosa un po'... una ragazza ha tante foto di sé e sceglie accuratamente quelle da mettere per mostrarsi sempre al meglio. Quindi è strano che metta una foto con una persona che sia il suo attuale ragazzo, se non per dire esplicitamente guardate che io sono fidanzata, voglio tradirlo, voglio divertirmi, quindi non prendetevi male con me. Va bene, nel senso non pensate a chissà quale cosa, sono qua solo per sesso. Ecco, valutate queste cose, ma non fatevi troppi problemi all'inizio, le cose verranno fuori naturalmente, anche le persone che vogliono, secondo voi, fregarvi alla fine si mangiano da sole, se siete capaci di portare avanti un qualche cosa e alla fine, in un certo senso, torchiarle, metterle al muro per vedere se i fatti sono coerenti con quello che dicono. Questo è quanto, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net dove ho riservato diversi pacchetti di consulenti, per venire incontro ai vostri bisogni, scegliete quello che preferite ovviamente. Ci vediamo in un prossimo video.